Benvenuti in questa live, grazie Megas per avermi seguita. I love you, I love you. Benvenuti in questa live. Ad un milione di like rompo il personaggio per chiacchierare un po' con Stikein. Grazie Filippo per avermi seguita. Fabio, il tuo primo regalo. Grazie di vero cuore. Benvenuti in questa live. La patata, come fa TikTok e facciamo la buona. Claudio, il tuo primo regalo. Grazie di vero cuore. Leonardo, grazie per avermi seguita. La patata, come fa TikTok e facciamo la buona. Benvenuti in questa live. Benvenuti in questa live. Grazie Giusy per avermi seguita. Ho corso a Crescento e Gennaro. Stikein. Benvenuti in questa live. Grazie a Zara per avermi seguita. Grazie Adriana. Per avermi seguita. Grazie Castello. Per avermi seguita. Grazie Wombo. Per avermi seguita. Grazie Depa. Per avermi seguita. Oh, Crescento e Gennaro. Benvenuti in questa live. Grazie Nuni. Per avermi seguita. Frrrra. 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 Oh, Crescento e Gennaro. Ciao.